sentite io sono Michele Zagaria ah, allora sentite bene io le sto telefonando perché le voglio dire no? che lei non è un giornalista serio si, ma scusi un attimo, lei è Michele Zagaria chi? lo sai bene, ti scrivi sul giornale no? che sta in guerra con Antonio Iovine ma scusami è uno scherzo questo? no, 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 non è uno scherzo, sono io personalmente io così le faccio le cose, perché io sono una persona seria e lei no aspetta un attimo, ti faccio pure Antonio Iovine va bene, è così, ti togli questo pensiero di scrivere sempre stronzate, stronzate io secondo me è un professionista serio no? tutte queste stronzate non le scrive, è chiaro? adesso te lo passo pronto? io sono Antonio Iovine sentite noi non stiamo scherzando siamo stufati di fare tutte queste criminali noi siamo delle famiglie che ci scriviamo da tanti anni allora se lei deve scrivere le notizie scrive serie e scrive la verità allora voi fate il vostro mestiere e noi vi rispettiamo con quelle che fanno purtroppo noi facciamo altre persone e ce lo siamo scelti noi no? è vero? allora il mestiere che fate voi è di scrivere le notizie e siamo d'accordo però scrivetelo come si devono scrivere le notizie no? stai facendo una confusione no? che la gente ha paura di salutare sia mio fratello che il fratello di Antonio allora qua non stiamo facendo nessuna minaccia niente io sto parlando da persona serie come sta parlando Antonio per un professionista serie secondo me non sei serio scrivendo tutte queste cose che non sono vera posso sapere una cosa? si? da dove state chiamando? noi? eh? dall'america e voi? è importante è fondamentale eh ma per quale momento? eh ma è ancora una professa che siete voi? sentimi bene allora io domani ti mando mio fratello con il documento e il fratello di Antonio con il documento e vedi che vanno assieme tutto questo problema è chiaro o no? è chiaro? voi io ti prego un'altra cosa domani mattina domani mattina ti raccomando di non scrivere quello che stiamo dicendo in questo momento ma no ma perché mi sono spiegato allora io ti ho telefonato solo per farti rendere conto che chi ti viene a dire queste stronzate sono stronzate sul vero senso della parola basta questo non stiamo minacciando niente è chiaro questo? va bene? va bene vuoi la conferma che ti mando mio fratello o può bastare così? ma per me basta anche così ti ringrazio a sé ok va bene da domani mattina non scrivere più queste stronzate ma io non dico che tu a me e Antonio non devi mettersi il giornale però devi scrivere le serietà è chiaro? ma questo adesso siete liberi perché tu non lo fai io sono l'esame ah grazie a tutti grazie a tutti